Benvenuti e benvenute in questo nuovo video tutorial di Orizzonte Scuola sulla presentazione della domanda di mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2024-2025. Come negli ultimi anni, le domande si potranno presentare unicamente attraverso il portale Istanze Online, ma hanno eccezione solamente i docenti di religione cattolica che dovranno presentarla attraverso un apposito modulo inserito nel sito del Ministero dell'Istruzione. Sarà possibile presentare le domande dal 26 febbraio fino al 16 marzo. Gli esiti saranno pubblicati il 17 maggio. Per prima cosa effettuiamo l'accesso su Istanze Online. Per farlo clicchiamo qui in basso a sinistra su Accedi, effettuiamo i login con uno di questi servizi, i più comuni sono lo Speed e la carta di identità elettronica e una volta effettuato l'accesso nella pagina che compare cerchiamo i riquadri riguardanti le domande di mobilità. che sono i seguenti. Domanda di mobilità secondaria di secondo grado, primo grado, primaria e infanzia. A titolo di esempio ora compileremo una domanda di mobilità per la secondaria di secondo grado. Clicchiamo in basso a destra su Vai alla compilazione. Dopo aver letto le varie informazioni, spuntiamo la voce in cui dichiariamo di aver letto e accettato i termini e clicchiamo su Avanti. Verrà visualizzata una pagina con i propri dati personali. Cliccando su Avanti si accederà a questa pagina dalla quale sarà possibile presentare la domanda di trasferimento oppure quella del passaggio di cattedra o ancora quella del passaggio di ruolo. A cosa corrispondono queste tre tipologie di domanda? Supponiamo di essere in ruolo nella classe di concorso A27, matematica e fisica al secondo grado e supponiamo di voler rimanere nella stessa classe di concorso ma di volerci trasferire all'interno della stessa provincia oppure di altra provincia. Bisognerà compilare una domanda di trasferimento. Supponiamo che oltre a volerci trasferire però vogliamo anche modificare la classe di concorso però all'interno dello stesso grado. Supponiamo ad esempio la classe di concorso A26, matematica. In questo caso bisognerà compilare una domanda di passaggio di cattedra. Supponiamo ora invece di essere in ruolo al primo grado, per esempio su A28, matematica e scienze, e di voler passare al secondo grado sulla A27. In questo caso bisognerà compilare una domanda di passaggio di ruolo. Supponiamo di voler presentare una domanda di trasferimento, quindi clicchiamo su inserisci in corrispondenza di questa voce. Come possiamo vedere la domanda presenta diverse sezioni. Dato che la domanda non si salva in automatico, bisogna cliccare in basso a sinistra su salva, e dato che non è possibile cliccarvi se prima non si compilano i campi obbligatori, consiglio di iniziare prima da questi. La sezione obbligatoria è quella sulla scelta del posto. Il primo punto, il numero 35, è per coloro che sono in ruolo su posto di sostegno. Ricordo infatti che in questi casi è richiesto un vincolo quinquennale prima di poter chiedere il trasferimento su materia. Non si tratta del mio caso, dato che sono in ruolo su posto comune, per questo motivo la sezione è impostata di default su no e non è modificabile. Il punto 36, obbligatorio per tutti, serve per indicare il proprio ordine di gradimento tra posto comune e posto di sostegno. Se ad esempio siamo di ruolo su A27 e vogliamo prioritariamente trasferirci in un'altra scuola, sempre però sulla A27, allora bisognerà selezionare il numero 1. Se siamo in possesso della specializzazione sul sostegno e volessimo dare disponibilità a trasferirci anche sul sostegno, ma in subordine rispetto alla A27, allora qua dovremo indicare il punto numero 2. Per poter salvare la domanda è necessario indicare almeno una preferenza, quindi compiliamo prima la sezione sulle preferenze. È possibile indicare fino al massimo di 15 preferenze, alcune delle quali, secondo il nostro gradimento, possono essere analitiche, cioè su una specifica scuola, oppure sintetiche, cioè su un intero comune, distretto oppure provincia. Per inserirle clicchiamo su Aggiungi preferenze, selezioniamo la regione relativa al trasferimento, la provincia, clicchiamo su Conferma e possiamo selezionare le nostre preferenze. Se ad esempio su una specifica scuola che ci interessa sapessimo che è previsto un pensionamento oppure un probabile trasferimento in uscita, oppure per altri motivi potrebbe crearsi una nuova cattedra, converrebbe allora inserire prioritariamente queste scuole. Come si inserisce una preferenza su scuola? Bisogna cliccare sul più in corrispondenza del distretto che la contiene, sul più in corrispondenza del comune e poi selezionare le singole scuole. Le preferenze compariranno in alto nell'ordine in cui sono state selezionate. È possibile comunque modificare l'ordine utilizzando queste frecce. Se invece volessimo eliminare una preferenza, basta cliccare su questa X. In alternativa si possono cercare le scuole anche digitando il loro nome oppure il codice meccanografico. Come ho detto in precedenza, si possono inserire anche preferenze sintetiche. A titolo di esempio inseriamo una preferenza su comune e due su distretto. In questo modo si determina il nostro ordine di priorità. Quindi prioritariamente il sistema andrà a cercare se c'è una cattedra disponibile su questa specifica scuola. Se è prevista, viene assegnata diversamente, si passa nella seconda scuola. Anche in questo caso, se è disponibile una cattedra, viene assegnata, altrimenti si passa all'intero comune. Quindi il sistema va a cercare all'interno di tutte le scuole del comune di Pisa una cattedra disponibile. Se la trova, l'assegna, altrimenti passa avanti a cercarla all'interno del intero distretto e così via. Per quanto riguarda le preferenze sintetiche, è possibile dare disponibilità anche per alcune scuole specifiche, per esempio scuole ospedaliere, carcerarie, serali, licei europei. E poi si può dare disponibilità anche per le COE, cioè cattedra orario, nello stesso comune oppure in comuni diversi. Ricordo che le COE sono delle cattedre il cui orario è suddiviso su più istituzioni scolastiche differenti, proprio dal punto di vista amministrativo. Può capitare di dover lavorare su più scuole anche quando si hanno delle COE, cioè cattedre orario interne. Questo perché molte istituzioni scolastiche hanno più plessi. Una volta compilate le preferenze, abbiamo concluso con i campi obbligatori, quindi clicchiamo su Salva. Torniamo alla domanda cliccando su Aggiorna per compilare le altre sezioni in modo da avere punteggio aggiuntivo. Iniziamo con la sezione sull'anzianità di servizio. Durante la compilazione di questa sezione consiglio di consultare il contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità, in particolare le tabelle allegate, in modo tale da individuare i diversi punteggi relativi ad ogni voce e soprattutto andare a consultare le note, nelle quali sono inseriti tanti dettagli e sono specificate anche alcune situazioni particolari. Nel punto 1 dobbiamo indicare il numero totale di anni di ruolo effettivamente prestato a partire dalla decorrenza giuridica della nomina nello specifico ruolo di appartenenza. Questo significa che se ad esempio si è entrati in ruolo il 1 settembre 2021 nel secondo grado, allora gli anni di ruolo da indicare saranno due. Ricordo infatti che l'anno in corso non è valutabile. Se avessimo avuto una retrodatazione giuridica della nomina al 1 settembre 2020 e durante quell'anno fosse stato svolto un servizio pari a un'annualità, allora questo anno andrebbe inserito sempre all'interno di questa voce e quindi le annualità risulterebbero tre. Se invece durante l'anno di retrodatazione giuridica della nomina non fosse stato svolto un servizio, allora quell'annualità di quell'anno andrebbe indicata in questo riquadro. Ricordo che per anno di servizio si intendono 180 giorni oppure il servizio continuativo dal 1 febbraio fino agli scrittimi. Altro aspetto da osservare è che nel computo di questi anni di ruolo si devono contare solamente le annualità effettivamente prestate. Quindi se ad esempio è stata chiesta per un anno un'aspettativa per motivi personali, quindi non retribuita, questa annualità non va considerata nel calcolo. Altro aspetto da ricordare è che il servizio prestato nelle piccole isole vale doppio. Quindi se ad esempio due anni sono stati prestati in piccole isole, allora contano come quattro anni. Se prima di questo ruolo avessimo svolto altre annualità di ruolo in altro ruolo, ad esempio nell'A28, quindi secondaria di primo grado, tale annualità andrebbero indicate in questo riquadro. Questo per quanto riguarda tutte le tipologie di anni di ruolo. Per quanto riguarda il preruolo, quindi le supplenze, abbiamo il punto 3. Qui vanno indicate tutti gli annualità di supplenza, dove ricordo che si intendono sempre 180 giorni oppure servizio continuativo dal primo febbraio gli sfruttini. Supponiamo di avere due anni di preruolo. Nel punto 4 bisogna invece indicare le annualità svolte con continuità nella stessa scuola. Devono essere almeno tre. Se non sono stati svolti almeno tre anni continuativi nella stessa scuola, allora non si possono indicare annualità in questa voce. Ricordo che le annualità in assegnazione provvisoria interrompono la continuità, così come la interrompono anche le annualità di supplenza svolte tramite l'ex articolo 36 del CCNL 2007. Le caselle del punto 5 vanno invece compilate solamente da coloro che sono interessati a un trasferimento su posto di sostegno e che provengono sempre da un posto di sostegno oppure anche da posto comune. Ricordo infatti che il passaggio da posto comune a posto di sostegno e viceversa non è considerato un passaggio di cattedra, ma un trasferimento. Possono usufruire del punteggio aggiuntivo del punto 6, quello alla lettera D del CCNI, coloro che dall'anno scolastico 2000-2001 all'anno scolastico 2007-2008 non hanno presentato domanda di mobilità per almeno un triennio. Dato che abbiamo compilato questa sezione sull'anzianità di servizio, dovremo anche compilare e inserire a sistema i relativi allegati sul servizio. In generale tutto ciò che inseriremo nella domanda dovrà anche essere giustificata ad apposita autocertificazione che andrà allegata. Dove si trovano gli allegati? Si trovano nel sito del Ministero, vi conviene cercare la pagina apposita sulla mobilità con parole chiave come mobilità docenti 2024, andare sulla destra su autodichiarazioni e accediamo all'elenco dei vari allegati. Per quanto riguarda l'anzianità di servizio, abbiamo gli allegati di, la dichiarazione relativa al punteggio aggiuntivo per coloro che hanno selezionato la lettera D, quindi coloro che non hanno presentato domanda di mobilità per almeno un triennio tra il 2000-2001 e il 2007-2008, e poi l'allegato F sulla dichiarazione del servizio continuativo. Alla fine del video tutorial ritorneremo sugli allegati per vedere come e dove inserirli. Passiamo ora alla compilazione della sezione sulle esigenze di famiglia. Possono compilare il punto numero 7 coloro che vogliono richiedere il ricongiungimento al coniuge oppure parte dell'unione civile o convivente. La convivenza deve essere testimoniata da apposita certificazione anagrafica. In caso di assenza di un coniuge, si può compilare questa sezione anche per chiedere il ricongiungimento ai genitori oppure ai figli. Per compilare questa sezione basta indicare la provincia e poi successivamente il comune di ricongiungimento. Potrebbe capitare di non trovare l'esatto comune di ricongiungimento perché non sono presenti scuole dell'ordine del grado in cui si sta chiedendo il trasferimento. In questo caso bisogna indicare il comune più vicino. Il punto numero 8 è per coloro che necessitano il riavvicinamento per la cura e l'assistenza di figli con disabilità o tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto. I punti 9 e 10 invece riguardano il numero dei figli. Il punto 9 per i figli al di sotto dei 6 anni e il punto 10 per i figli tra i 6 e i 18 anni oppure per i figli maggiorenni inabili al lavoro. Passiamo ora alla sezione sui titoli generali. Qui trovate l'elenco di tutti i possibili titoli valutabili. Tra i più comuni vi è il superamento a seguito di uno concorso ordinario, deve essere però superato nello stesso ruolo oppure superiore. Ricordo che non vale invece il superamento di un concorso straordinario. Il punto numero 13 è relativo a titoli di laurea di primo livello, quindi lauree triennali, che però devono essere ulteriori rispetto al titolo di studio che è stato necessario per l'accesso al ruolo. Ad esempio, se siamo in ruolo sulla classe di concorso A27 in virtù di una laurea magistrale in matematica, non è possibile inserire in questa voce la laurea triennale in quanto non è ulteriore rispetto a quella magistrale. La stessa cosa vale per il punto 15, nel quale è possibile indicare una laurea di secondo livello, quindi specialistica, magistrale o vecchio ordinamento, purché però ulteriore rispetto al titolo di studio che ha dato accesso alla classe di concorso in cui siamo in ruolo. Quindi, per esempio, in questo punto 15 non si può indicare la laurea magistrale in matematica che abbiamo menzionato prima, però se si possiede un diploma accademico di secondo livello del conservatorio, invece questo risulta essere ulteriore e quindi può essere inserito. Altra osservazione, il punto 17, relativo al numero di partecipazione agli esami di Stato, può essere indicato solamente per chi ha partecipato agli esami di Stato conclusivi del secondo grado fino all'anno scolastico 2000-2001. Il punto 18, invece, riguarda il CLIL con due campi differenti a seconda che si possieda la certificazione linguistica di livello C1 oppure meno in quanto il punteggio è differente. Come specificato nelle tabelle legate al CCNI, è valutabile il CLIL rilasciato da istituzioni universitarie ai sensi del Decreto direttoriale numero 6 del 2012. Esistono anche altre tipologie di CLIL. In questi casi, se sono assimilabili a Master da 1.500 ore e 60 crediti, possono essere indicati nel punto relativo ai Master. Passiamo ora alla compilazione della sezione sulle precedenze. Vi ricordo che le precedenze sono elencate secondo l'ordine di priorità, cioè la precedenza presente in ogni riga è prioritaria rispetto alle precedenze delle righe successive. Tutti i dettagli sulle precedenze sono contenuti nell'articolo 13 del CCNI. Hanno precedenza assoluta, i docenti risultati sovranumerari negli ultimi otto anni e pertanto trasferiti d'ufficio oppure a domanda condizionata. Tali docenti hanno il diritto al rientro nella vecchia sedia di titolarità qualora si siano liberati dei posti. In questo caso, ricordo che tale scuola deve essere indicata tra le preferenze al primo posto. In subordine, hanno a precedenza i docenti non vedenti, i docenti non emodializzati, chi beneficia dell'articolo 21 della legge 104 con un'invalidità superiore ai due terzi. In questo campo va indicata la provincia del comune di residenza e come prima preferenza bisognerà indicare una preferenza su tale comune oppure sul distretto subcomunale. I docenti non necessariamente con disabilità che a causa di una grave patologia hanno bisogno di cure con carattere continuativo e ancora chi beneficia dell'articolo 33,6 della legge 104 del 1992. Si passa poi ai casi di precedenza per assistenza al figlio, al coniuge oppure al genitore, ma in questo caso vale solamente per i trasferimenti provinciali. Ancora abbiamo una precedenza per coloro che sono coniugi conviventi di militari che sono trasferiti d'ufficio, questa del punto 31 invece è una precedenza per coloro che hanno cariche pubbliche. Abbiamo poi la precedenza prevista a seguito della riduzione delle aspettative sindacali e poi abbiamo la precedenza per il docente che accede ai corsi per adulti e poi la precedenza invece per i docenti utilizzati presso strutture ospedaliere o carcerarie. Ricordo che si può indicare una sola precedenza, di conseguenza chi ne possiede più di una conviene selezioni quella che si trova più in alto in questa scala di priorità. Tra le altre sezioni compilabili abbiamo questa sui requisiti che riguarda coloro che sono in possesso dei requisiti per insegnare su scuole laddine di Trento. Infine, ultima sezione che ci manca, ma molto importante, è quella degli allegati. Tutto ciò che è stato dichiarato deve essere appositamente documentato con autodichiarazioni o eventuali certificati medici che vanno inseriti qua come allegati. Se clicchiamo sul menu a tendina in questo caso troviamo precedenti documentazioni per inserire quelle che riguardano questa domanda dobbiamo tornare indietro su Istanze online. Quindi saliamo, clicchiamo in alto a destra sul nostro nome e poi su Torna Istanze online. Clicchiamo su Altri servizi, cerchiamo la voce Gestione allegati e poi clicchiamo su Vai a servizio. Clicchiamo su Avanti, ancora su Avanti, e poi cliccando ancora su Avanti dopo aver visualizzato i propri dati anagrafici si accede alla pagina per inserire gli allegati. Qua sono presenti precedenti dichiarazioni. Per inserirne una nuova bisogna cliccare qui in alto a destra su Inserisci, scegli file, cercare fra le cartelle del proprio computer quella in cui si trova il file, selezionare il file, cliccare su Apri, dare un nome all'allegato, e poi cliccare su Conferma. In questo modo l'allegato verrà correttamente inserito. Per inserirlo nella domanda di mobilità, ritorniamo all'interno della domanda, andiamo nella sezione Indicazioni allegati, clicchiamo sul menu a tendina e cerchiamo l'allegato appena inserito. Nelle altre voci si possono inserire gli altri allegati. Ricordo infatti che ora a titolo di esempio ne abbiamo inserito solamente uno, ma tutto ciò che è stato inserito nella domanda deve essere poi autodichierato, quindi bisogna inserire i relativi allegati. Ricordo inoltre che coloro che stanno presentando domanda di mobilità beneficiando di una deroga devono anche compilare e inserire l'allegato G. Una volta conclusa la domanda, clicchiamo su Salva e infine clicchiamo su Invia.